Un saluto a tutti Oggi il vlog lo giro con la fotocamera anteriore del telefono E vediamo cosa viene fuori E sperano che si senta meglio Perché in teoria l'audio arriva in questa direzione E l'ho scoperto adesso E oggi si torna a scuola Ed ho corso un casino Tipo che per non susseguirsi di eventi Quindi sono trovato stamattina a perdere uno Il primo treno, due a prendere il secondo Di corsa, quindi rischiano di perdere pure quello E sono tutto questo perché Ieri Si è chiusa Un lungo periodo Di spettacoli Il magico paese di Natale Ha avuto la sua ultima replica Siamo state 17 date Stupende In cui abbiamo fatto una cosa come Adesso non ho fatto il conto ma Facendo in media Credo più di 500 repliche Comunque Almeno 480 E Diciamo che è stato Intenso Però bello Perché comunque i bambini ti danno un sacco di carica E ricominci che ogni volta che sei sempre con un carico di forza Beh forse verso le sei Cinque o sei del pomeriggio inizia a essere Presantuccio Però è sempre bello Poi vedi i bambini che si illuminano gli occhi Fai discorsi essici Quindi bambini Tipo che loro ti capiscono Io parlo tutta una lingua strana Che ormai è diventata Il mio dizionario quotidiano Che ormai non Cercherò di togliermi in qualche modo Ma loro si illuminano E' bellissimo E poi E' bello Perché poi Non so Sei elfo Ti accrescono anche le orecchie da elfo Poi Man mano che lo fai Comunque Tutto questo Porta che Io ieri sera Ho scoperto che oggi cominciavo la scuola Ma perché l'ho scoperto ieri sera? Perché Adesso mi sembra di avere Adesso non vuole dire una stupidaggine Però In qualche modo ho percepito Un professore che ha detto Ci vediamo il 10 Ma probabilmente Lui intendeva Il 10 Nel senso che lui viene al 10 Non nel senso che Ricominciava la scuola al 10 E quindi io L'ho scoperto ieri sera Era tutto di corso E già era tardi Ero anche stanco Ero anche a fare la doccia Ero anche a fare tutto quanto Alla fine La doccia l'ho fatta stamattina Con l'acqua fredda Perché Cioè non fredda Però era tiepida E considerando la temperatura Del mattino Diciamo che era fredda Aspettando un po' Diventata calda Però realmente È passato un po' di tempo E quindi Ho iniziato a perdere minuti Poi ho fatto una colazione Super veloce Mi sono preso due panini Da mangiarmi via E Ho anche scoperto Che il video Che fa la fotocamera anteriore Dura tipo 2 minuti e 40 Al massimo Ecco perché Oggi è un altro giorno Siamo L'8 di gennaio 2014 E mi collego a ciò che stavo dicendo ieri Perché Qui Bisogna stare entro i tempi Beh Tanto Per raggiungere qualcosa Alla giornata di ieri Perché è stata magica Che non avrei potuto dire Nel caso Non Non ci fosse bloccato il video Quindi colgo l'occasione Ieri Nel tornare a casa Ho preso Un treno a Porta Susa Dove Ho incontrato Una mia amica La Alessia E E Praticamente È stato bellissimo Cioè Bello nel brutto È stato bello Non è stato brutto Quindi direi che è stato bello Perché Allora Innanzitutto Parlare con lei È stato bellissimo Perché mi ha Fatto ritornare la voglia Di studiare giapponese E Mi ha dato qualche dritta Visto che lei studia giapponese E Credo che la seguirò E vediamo se riesco a fare qualche progresso Mi ha spiegato Ho scoperto che Toshi Vuol dire anno E Non sono sicuro di quello che sto dicendo Perché Ammetto di averlo Di averlo ricercato su Su Google Comunque Perché la prima La prima parte della frase Non me lo ricordavo E Se stai vedendo questo video Puoi cazzarmi E Praticamente Ho imparato a dire Auguri di buon anno Che è Yon Otoshio Però non sono sicuro Dello Yon Forse non è Yon Forse Ah no Yon No 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 Ho sbagliato E Yoi Yoi otoshio E Oh caspita Sono già a 2 minuti 11 Meglio che Faccio uno stop Rieccomi Allora Dicevo che siamo andati Abbiamo preso il treno Il problema è che Questo treno Era tutto ok C'era scritto anche Portava ad asti Tutto a posto E sono andato Siamo andati tranquilli Abbiamo anche controllato Perché era tutto nuovo Ci sorprendeva Che fosse così E allora siamo saliti Conventissimi Abbiamo iniziato a parlare E poi ci siamo trovati A un certo punto Che Prossima fermata Villa Sterone Villa Stellone Che cacchio Ma è il treno giusto Mi hanno guardato No Era il treno per Bra Quindi si stavano andando Allegramente a Bra E allora siamo scesi Che è meglio E abbiamo preso un treno Per tornare indietro Abbiamo visitato Abbiamo visitato Questo paese Nel mentre Che è bellissimo Tutto era Qui c'era il sole Tutto luminoso Ho messo qualche foto Su Facebook Se volete guardare Tre Tre foto Continuo a uccidervi Scusate E E poi No è stato bello Quindi abbiamo avuto Anche l'occasione Di parlare un po' di più Visto che era tantissimo Che non ci vedavamo E quindi sono Siamo poi tornati Ad Asti Sono andato Ma la giornata Sostanzialmente La parte Clue È stata questa Invece oggi Visto che Possiamo aggiungere Ancora qualcosa A ieri Ho corso di nuovo Ma anche oggi Praticamente Mi sono svegliato Ancora più tardi Di ieri Mi stanno investendo Ok Tipo Che il treno Alle 6.52 6.52 6.54 A parte E mi sono svegliato Alle 6.30 No 6.25 6.27 Roba del genere Tipo che Ho corso 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 Però sono arrivato E ce l'ho fatta Forse anche Con più tranquillità Di ieri Un po' più in anticipo Forse il tren È partito un po' dopo E quindi Oggi sono di nuovo qui A Rebodengo Che vi parlo C'è un C'era un vento Bastante forte In stazione Di volte Sono uscito E ho potuto Fortissimo Non ho fatto colazione Se non Con un'arancia Che avevo dietro Perché Se no Per il treno È colore In cui mi sono svegliato Vi auguro Una buonissima giornata E vi saluto Io sono Francesco Che vi succederà Poi Che c'è Ciao Grazie.